La decisione della provincia di Bergamo di chiudere lo sportello lavoro di Albino ha provocato la reazione preoccupata e scandalizzata della Cisle di Bergamo che in un comunicato esprime il proprio dissenso sul merito e sul metodo riscontrando in questo secondo caso che anziché un confronto serio e trasparente nelle sedi opportune volto alla salvaguardia dello sportello si è preferito procedere alla chiusura e affidare le comunicazioni della decisione ad un comunicato stampa. La Cisle sottolinea che una delle migliori esperienze e tra le più fruttuose nel campo della ricerca attiva del lavoro rischia di naufragare. Dal 31 dicembre scorso il servizio era stato sospeso in attesa del rifinanziamento, ora è certo che i soldi non ci sono e che lo sportello rimarrà chiuso. Questa decisione unilaterale, sottolinea la segreteria della Cisle, è molto distante sia dalle esigenze delle persone del territorio oltretutto in una fase storica da tutti ritenuta difficile che da serie relazioni tra sindacato e istituzione. Il progetto dello sportello sviluppo valesseriana era nato il 10 settembre 2010 e aveva visto quali enti sostenitori la provincia e la comunità montana. La funzione principale di questo sportello è quella di informare e orientare i lavoratori, in particolare quelli coinvolti dalla crisi, nella ricerca attiva del lavoro, riuscendo nel tempo a coinvolgere in un'azione di sistema le amministrazioni locali e i centri per l'impiego. Alla fine dello scorso anno si erano rivolti allo sportello per orientamento, consulenza o per la ricerca attiva di occupazione 231 persone. Lo sportello si è anche distinto per lo scambio di informazioni con i principali soggetti territoriali impegnati nelle politiche attive del lavoro, con Bergamo Sviluppo, per il supporto agli aspiranti imprenditori per la fase di start-up, per la realizzazione di percorsi di tirocinio per giovani neolaureati. Il segretario provinciale della CISL, Ferdinando Piccinini, in una lettera inviata al presidente della provincia Pirovano e all'assessore al lavoro Capetti, invita la provincia a rivedere la decisione di chiudere l'attività dello sportello valesseriana, in considerazione del lavoro svolto e di quanto è ancora necessario fare, con l'impegno di tutti, per la maggior offerta possibile di attori impegnati nelle politiche attive del lavoro.